Da questa mattina persone giovani e meno giovani, donne e uomini, consacrati e fedeli laici, stanno rendendo omaggio alle spoglie mortali di Benedetto XVI nella Basilica Vaticana. Il prefetto di Roma ha previsto che in questi giorni affluiranno almeno 30-35 mila persone al giorno, mentre per i funerali che si celebreranno il 5 gennaio la previsione è di una presenza di circa 60 mila fedeli. Ma secondo la Gendarmeria Vaticana, solo questa mattina 40 mila persone hanno sostato in preghiera per Benedetto XVI. La traslazione della salma dal monastero Mater Ecclesi alla Basilica Vaticana è avvenuta in forma privata alle 7, l'arrivo in Basilica alle 7.15. Il breve rito, presieduto dal cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica di San Pietro, è durato fino alle 7.40. Hanno preso parte, con visibile dolore e affetto, le persone che facevano parte della famiglia pontificia, nella cappellina dove da ieri la salma di Benedetto XVI ha riposato per tutto il giorno, esposta a fianco ad un grande crocifisso con un presepe e l'albero di Natale. C'erano Monsignor Georg Henschwin, le Memores Domini che hanno assistito Ratzinger quotidianamente negli anni, gli ex aiutanti di camera ed un piccolo gruppo del Mater Ecclesie che ha recitato una breve preghiera. Le spoglie del Papa Emerito sono state poi trasferite con un trasportino dai sediari pontifici in Basilica con una processione attraverso la porta della preghiera. Un tragitto breve lungo un viale di curve ed alberi che per tutta la giornata di ieri, partendo dalle prime visite private di Vescovi e Cardinali, è stato occupato da centinaia di persone. Un flusso durato fino al tardo pomeriggio. Poi è stata ultimata la preparazione della Basilica per l'arrivo dei fedeli in visita al Papa Emerito. La salma è esposta all'altare della confessione, così come avvenne per Giovanni Paolo II. Il primo ad entrare alle 8.50 in una Basilica Vaticana chiusa, ancora al pubblico e con le luci a bassa tensione, è stato il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella con la figlia Laura. Subito dopo Mattarella, questa mattina a San Pietro, sono arrivati il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. La salma di Benedetto XVI compare con un anello al dito, è quello con l'effigie di San Benedetto che gli era stato donato da Monsignor Gino Reali, vescovo in merito della diocesi di Porto Santa Ruffina, nel Lazio, ma di origine umbra. Josef Ratzinger sarà tumulato nella tomba delle grotte vaticane in cui gli era precedentemente sepolto Carol Voitila, come ha confermato oggi il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni.